A questo progetto ho aderito e sono rimasta affascinata da questo nuovo modo di concepire l'agricoltura e la progettazione degli spazi in maniera diversa da quella che siamo abituati a vedere. E quindi attraverso tutti i vari progetti, laboratori, anche conoscenza di persone, scrittori e tecnici ci siamo aperti a un altro modo di vedere la terra e di poter usufruire di questa.